Riguarda la grande creatività e innovatività di estrarre e riprodurre una melodia musicale dal suono delle rocce e disegni artistici da immagini di sezioni sottili di rocce e per l'ottimo coinvolgimento degli studiatori. Si è chiuso con il primo posto al concorso Giovane Geologo, un geologo e per la vita il lungo percorso che alcune classi del Liceo Gravina hanno intrapreso durante quest'anno scolastico. L'attività è stata incentrata sulla collaborazione tra Unical e Liceo Gravina di Crotone una serie di professori dell'Università della Calabria, Dipartimento di Scienze della Terra è stato ospitato dal nostro istituto per relazionare sui temi che riguardano il rapporto tra l'uomo e la natura. Frutto di questo intenso lavoro è stata la realizzazione di un video dal titolo Il Canto delle Pietre. A seguito di questi incontri gli studenti, presi gli stimoli lanciati dai professori universitari hanno realizzato una vera e propria composizione musicale a partire dal rumore ottenuto dall'urto tra queste pietre di diversa natura, rocce sedimentarie, rocce igne, rocce metamorfiche. Sulle note prodotte dall'urto di queste pietre è stata realizzata una vera e propria composizione musicale. La narrazione di tutto questo progetto è stata effettuata dai ragazzi invece dell'indirizzo linguistico che hanno tradotto con un video breve di circa 6-7 minuti tutto il lavoro di educazione civica portato avanti nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico. Il corto realizzato è stato ideato e strutturato per poter permettere ai ragazzi di partecipare al concorso giunto quest'anno alla sua seconda edizione ed organizzato dall'Università della Calabria. È una grande soddisfazione per loro, i ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo all'intero percorso e ognuno con il proprio pezzettino ha contribuito alla composizione dell'intero video per esempio attraverso dei disegni di scienze arte che sono stati ovviamente basati su studi in corso con l'Università le ceneri vulcaniche, la sezione virica di Crotone e tanti altri aspetti e peculiarità del nostro territorio crotonese. Grande merito va dato al professore Cosentino che ha saputo assieme agli altri colleghi entusiasmare e guidare i ragazzi fino al raggiungimento di questo riconoscimento che premi anche la grande voglia di mettersi in gioco e di conoscere. Una vittoria, in un certo senso una rivincita per le scienze della Terra che sono sempre più messe ai margini di una società sempre improntata più alla biologia, alle biotecnologie tralasciando quello che è invece la nostra casa comune, appunto il pianeta Terra, la nostra madre Terra che di fatto è quello che accomuna tutta la specie umana.